Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni. Ospite con noi quest'oggi in studio è Michele Vigne, che è il presidente di Confedilizia Veneto, nonché il referente provinciale per il territorio di Belluno. Di Confedilizia ben ritrovato presidente. Grazie, grazie a voi. Confedilizia è quindi la Confederazione Italiana Proprietà e Dilizia, il punto di riferimento per tutte le questioni che riguardano la casa, gli immobili in generale, quindi condomini, affitti, compravendite, tasse, insomma ne abbiamo veramente di cui discutere presidente. Ma io comincerei con quello che è stato il tema caldo, ovviamente che ci ha sconvolto tutti quanti, ossia l'emergenza coronavirus, le conseguenze economiche che si sono avute appunto da questa pandemia e che hanno coinvolto anche ovviamente il vostro settore. Sì, noi diciamo che come associazione di Belluno, rimango sulla realtà, ma anche nelle varie territoriali veneti, e siamo impegnati a tenere sempre aperti gli uffici rispettando le dovute distanze, le dovute precauzioni e mettendo in atto tutte quelle misure necessarie. Pensiamo solo che per la realtà, per esempio, bellunese, per poter dare un continuo servizio, abbiamo le persone all'inizio, si sono messe i dipendenti in lockdown a casa, lavorando in smart working, però subito appena hanno potuto rientrare. E quindi ai soci abbiamo dato una consulenza continua, sistematica, perché vedete la situazione di questa terribile pandemia, è vero, tocca le attività commerciali, le attività economiche, le proprietà, i proprietari li tocca perché anche loro, alla fine, se dell'affitto non possono avere l'entrata, pensate a una realtà tipica, se mi permette, che vorrei portare nella realtà belunese e veneta, le persone, la famiglia dei due commercianti che avevano un negozio, si sono fatti la casa e sotto il negozio è il piano primo, l'appartamento dove vivono. Hanno detto un domani con quel negozio potrò, così, con i frutti dell'affitto, avere un incremento della pensione. Beh, in questo momento, quando i negozi hanno dovuto chiudere, proprio a causa della pandemia, anche ai proprietari è mancato l'entrata. Quindi questa tremenda pandemia, che crea dei problemi, veramente, non solo a chi direttamente può sembrare l'immediato categoria economica, ma a quella parte della proprietà, che diventa un punto importante, perché anche tutte le piccole proprietà, se non trovano dei locali in affitto, non riescono ad andare avanti. Certo, bisogna tener conto ovviamente di tutte le sfaccettature, di tutto quello che è rappresentato, da una parte sia chi non riusciva a pagare appunto quello che era l'affitto, ma dall'altra parte anche il proprietario dell'immobile che si trovava ad avere una mancanza importante. Insomma, quindi bisogna sempre soppesare, fare una riflessione del tutto. Abbiamo cercato, è stato un lavorio continuo nell'associazione, del nostro personale, nel ascoltare i soci, di fare anche un po' di servizio sociale, di ascolto. Quello era importante anche, rassicurare un aumento ai proprietari, nel dire guardate dei riferimenti, abbiamo trovato anche, in certe condizioni, trovate delle nuove possibilità di momentanea riduzione del canone d'affitto, dico momentanea perché altrimenti non sta in piedi il sistema, ma lasciando proprio aperto un dialogo, un dialogo costruttivo. Questo l'abbiamo fatto e l'abbiamo ribadito anche nella nostra assemblea che è stata tenuta a fine giugno. E infatti proprio di questo volevo discutere adesso con lei Presidente, l'assemblea dei delegati dell'Associazione Bellunese, dove si sono svolti altri importanti momenti però appunto per la vita dell'associazione. Sì, noi ogni anno abbiamo l'assemblea dei delegati, perché noi abbiamo i delegati per ogni comune, che vanno ad approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo dell'anno passato e vengono portate avanti anche le varie iniziative che l'associazione dovrebbe portare. Quest'anno, proprio con il problema Covid, l'abbiamo riusciti a farle entro il termine del 30 giugno, nonostante ci fossero le proroghe, ma non abbiamo voluto. E abbiamo avuto la possibilità di avere la sala del collegio Geometri, dove si sono dispettate le distanze, è fatta quell'assemblea estremamente positiva. Positiva per tante cose, per quanto ci hanno detto i delegati, che i soci, nelle varie realtà bellunesi, hanno apprezzato la presenza dell'associazione sul territorio. E questo ci rincuora e ci fa onore. Fa capire proprio il punto di riferimento dell'assemblea, Presidente, si è discusso, è stata riportata, è stata data notizia proprio all'interno del vostro notiziario dell'associazione proprietà edilizia di Belluno, che è in diffusione proprio in questi giorni. In questi giorni sta arrivando nelle case della proprietaria di casa bellunesi. Un punto di riferimento importante proprio per avere gli aggiornamenti. Sempre, noi lo manteniamo sempre, anche in cartaceo, al di là di quello informatico, perché è importante, va presso i proprietari e presso le pubbliche amministrazioni, perché è un fatto di presenza che noi ormai da oltre 46 anni teniamo sempre in riferimento. Senta, Presidente, venendo un pochino sempre sul filone comunque della pandemia, sulle varie iniziative del Governo, appunto per cercare di risollevare il Paese dopo questo shock traumatico che c'è stato, fra le varie misure introdotte con il decreto rilancio c'è stato il super bonus. Veniamo proprio a questo tema di cui si discute, quindi spieghiamo anche ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta, facciamo un po' chiarezza, quali sono appunto le misure di cui si può beneficiare? Sì, il super bonus con fedelizia dà un giudizio positivo, è un'opportunità, ma teniamo conto che su questo i passaggi, perché se lo ricordiamo bene, parte questa iniziativa lanciata ancora in marzo da parte del Governo, fra i parecchi articoli di quei provvedimenti vari che venivano fatti, e poi delegando giustamente agli enti al Ministero dell'Economia e Finanze a procedere agli strumenti attuativi, strumenti attuativi che fin dall'inizio abbiamo detto, guardate che o diamo una semplificazione importante all'apparato burocratico, o se usiamo gli stessi strumenti di prima non ci andranno fuori. Soprattutto parlando di questi bonus, e faccio questo prima di fare la carrellata, ma è importante anche capirla per quanto riguarda i condomini, per poter utilizzare questi benefici bisogna andare in assemblea, e lo sanno gli amministratori di condominio, cosa vuol dire un'assemblea di condominio? Bisogna incaricare un tecnico, perché possa fare una prima due diligence, una prima identificazione degli interventi che si possono fare, poi una diagnosi energetica per comprendere l'opportunità o meno per utilizzare i benefici, che adesso andremo a vedere, del risparmio energetico. Ma perché? Perché senza di quelli i condomini parleranno così del più o del meno. Abbiamo bisogno di elementi concreti. Allora dicevamo, guardate che parlare del 2021, che erano i tempi, fa solo sorridere, dobbiamo parlare minimo, minimo 2023, ma per i tempi che servono per gli addempimenti burocratici e anche amministrativi stessi. Allora entriamo in questi super bonus, super bonus che poi alla fine riprende un po' la filosofia dei bonus precedenti, fissa dei tetti, dei tetti di importi, di spesa, parliamo di isolamento degli edifici come punto principale, quindi uno degli interventi cosiddetti trainanti, parliamo di importanti interventi di ristrutturazione e adeguamento dell'impianto termico, parliamo di interventi che possono essere accumulati su questa parte, quando si hanno questi interventi, nella parte sismica, il famoso sisma bonus. Di cui si discuteva appunto. Certamente, ma che sono ancora, adesso tutti questi elementi diventano importanti. Allora abbiamo quelli, abbiamo il bonus facciate, il 90%, che può anche ricadere all'interno se l'operazione, un isolamento termico dell'edificio mi comporta anche a una sistemazione dell'edificio dal punto di vista estetico per la facciata prospicente. E quindi abbiamo anche questa possibilità. Quello che bisogna stare attenti è non farsi illusioni per subito. I decreti attuativi di questo, i provvedimenti sono tanti, sono pacchetti abbastanza complicati, però li stiamo studiando, per dirvi sono stati emanati, emanato l'ultimo, è stato così, ma ancora non pubblicato in Gazzetta il 7 di agosto. Quindi proprio parlare in questo periodo, quindi dicevamo come associazione a chi ci chiedeva, guardate, ne parliamo in settembre. Quando? Ma quando vedendo i provvedimenti e i nostri fiscalisti legali e tecnici avranno approfondito per bene la materia, potremmo dare delle precise indicazioni. Ma per adesso, ora, queste opportunità sono opportunità che vanno colte. Anche perché chi si ricorda i vecchi bonus, i vecchi principi ancora, come erano stati, erano le detrazioni fiscali che uno si può portare. Con questi bonus adesso si può anche cedere questo credito all'impresa, si può utilizzarlo come sconto in fattura. Attenzione però, soprattutto nei condomini, potremmo avere un condomino che dice no, mi va bene per il condominio lo sconto in fattura, e l'altro condomino che dice no, no, ma a me va bene invece potermi detrarre quello che è il bonus. E quindi già capite che la discussione comincia ad ampliarsi. Ma ne avremo tempo nei prossimi, torno a ripetere, dal mese di settembre. E hanno cominciato adesso anche questi incontri, queste riunioni, questi approfondimenti. Ma finché la documentazione non era ferma del tutto, non si poteva. E anche chi aveva fretta di partire, abbiamo detto, date con calma, sarà sicuramente pro. E comunque anche a livello nazionale, Presidente, so che state perfezionando le varie convenzioni con le imprese, anche con gli istituti di credito e professionisti, proprio per tutte le fasi, per seguire tutte le fasi dell'operazione, dai lavori al visto di conformità, insomma, a vari interventi che servono appunto per arrivare alla misura. Confedilizia proprio è stata coinvolta nel tavolo tecnico dell'ABI, no? Per questa parte di questo è veramente per noi anche un fatto importante. Devo dire su quella dal punto di vista tecnico, Confedilizia ha fatto riferimento al mio nome per la parte, diciamo, di alcuni addempimenti. e quindi è importante anche poter andare avanti su questo. C'è effettivamente tanta buona volontà nell'andare avanti. Torno a ripetere però, non possiamo farli in fretta. Perché il problema, e lo tengano gli ascoltatori che possono sentirci, guardate che una volta che questo meccanismo è partito, parliamo di detrazioni di imposta, e per caso capita un errore, o che l'ha fatto il tuo tecnico, o l'ha fatto il proprietario, o l'ha fatto... guardate che tornare indietro dopo non è più possibile. Ci si è mangiato, non si può... oddio mi sono sbagliato... Quindi va ponderato bene. Attenzione su questo, mi raccomando. Senta Presidente, cambiamo argomento perché abbiamo ancora tanti temi di cui discutere, tanto materiale. Un'altra attività interessante è il sondaggio che è stato presentato da Banca d'Italia sul mercato delle abitazioni in Italia, il mercato immobiliare, nel primo trimestre 2020. Ovviamente il mercato immobiliare è risentito anch'esso degli effetti della pandemia. Qual è la situazione appunto anche per il territorio provinciale? Ma anche per il territorio provinciale, come poi emerge anche dall'analisi della Banca d'Italia, anche nelle varie località, il mercato delle compravendite, stiamo parlando di quello prima e poi facciamo un'considerazione per le locazioni, delle compravendite di fatto ha continuato nella sua calma e discesa. Le prospettive per i prossimi sei mesi purtroppo non sono positive. Noi confidiamo sempre che la proprietà immobiliare possa riuscire ad avere a un certo punto quel giusto riconoscimento. Uno dei grossi problemi, sempre su questo, è la grande pesantezza dell'imposizione fiscale. Quella è quella che attanaglia la proprietà immobiliare e li impedisce anche di fare l'investimento. Se l'investimento non quadra, non si può fare, non si può vivere di debiti e questi proprietari di casa lo sanno. Per quanto riguarda le locazioni, le locazioni commerciali, guardate c'è stato proprio deciso crollo, ma basta vedere, basta vedere i negozi, basta vedere le situazioni. L'abbiamo ben detto, qui ci vuole che le pubbliche amministrazioni, l'abbiamo detto anche il Comune di Belluno, ci aveva incontrato la vice sindaco spiegando e dice sì, avere la proprietà con l'Imu è un grosso finanziatore del Comune. Lo sappiamo bene, sono anni che lo diciamo, ma viva Dio. E con questo dovete avere il coraggio, l'abbiamo provocato il Comune, ma ne approfitto per dirlo, di avere il coraggio di dire, volete far ripartire i negozi, la vita nel centro di Belluno? Bene, dovete fare in modo, interagire dove occorre, ma dire, si faccia una specie di zona franca per il centro storico, ma tutto non la via, la casa, tutto è il centro storico e lì le tasse per 5 anni non si pagano, né proprietari né inquilini. Allora, se vuoi, cara amministrazione, dare un impulso, lo puoi fare. Questi, ma allora siete vittime dell'apparato, allora lasciamo che governino i responsabili dei servizi, ma non servono più i pubblici amministratori. C'è qualcosa che, capite, ci vuole coraggio, ma certo, coraggio. Presidente, a breve, in settembre, partirà il sesto corso di aggiornamento per amministratori di condominio, anche questa è un'attività che viene portata avanti da molto tempo. Certo, sì, quest'anno lo facciamo con questo peso anche del coronavirus, ma siamo riusciti con i nostri amministratori di condominio, l'altro anno avevamo concluso con oltre 40 partecipanti, quest'anno sono già sicuramente gli stessi, più o meno, come numero, e questo buono, per quello ci dicono, perché gli amministratori hanno bisogno di superare il corso col test finale, ma vogliono anche essere aggiornati, aggiornati sui super bonus, come parlavamo prima, aggiornati per i vari addempimenti che devono avere per le assemblee, come farle, come non farle, in questa realtà. Allora abbiamo organizzato i giorni 9, 10 ed 11 di settembre, il 9 si inizia a Cortina, ormai abbiamo impostato che si fa un primo giorno a Cortina, per tutti gli amministratori della Concampezzana e del Cadore. e lo facciamo presso l'hotel Serena, dove la sala ha tutti i suoi requisiti, lì tratteremo degli aspetti, proprio quelli del sisma bonus, dal punto di vista fiscale e in parte dal punto di vista tecnico. E poi il giorno dopo si ripete questo abbelluno presso la sala Mucin, del centro Giovanni XXIII e il giorno successivo ancora, per tutti quanti, viene fatto con l'esame finale, inserendo anche le parti che sono relative di materia legale, su questi aspetti, curati dall'avvocato Nicolai e l'avvocato Tomasella, e nella parte anche sulle assicurazioni, curato dall'assicurazione Valpar. Quindi anche questa è un'importante occasione di crescita, di approfondimento, di aggiornamento. Un'ultima battuta Presidente, siamo proprio in chiusura, la festa del condominio, anche questa è una tradizione, quest'anno si farà o non si farà? Vorremmo farla, vorremmo farla questa, perché mentre non siamo riusciti a fare a Cortina l'evento biennale, proprio per questioni di coronavirus, ma la festa del condominio la vorremmo fare. È una tradizione, ci ritroveremo a discutere anche di questa. Io la ringrazio Presidente per essere stato con noi e appunto ci ritroveremo più avanti per i prossimi aggiornamenti sulla vita dell'associazione. Grazie mille. Grazie a voi. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci. Grazie a voi. Grazie a tutti.